Una conferenza stampa sui problemi e sulle prospettive di uno dei comparti che dà più occupazione nella provincia dell'Aquila, circa 1.600 le persone impiegate, compresi gli interinali, il settore del contact center. Due le principali vertenze su cui si concentra l'attenzione dei sindacati SLCCGL, Fistel, CISL e Wicom Will. La questione Holy System Start che gestisce all'Aquila la commessa di poste italiane di Acea in due diversi call center. Per quanto riguarda Acea, lunedì è stato firmato il contratto per il passaggio alla nuova giudicataria Tecnocall. Per quanto riguarda poste invece, situazione più complessa perché il committente ancora non indica alla società che fra le sette che hanno risposto all'invito acquisirà la commessa aquilana. Il problema è, dicono i sindacati, che Holy System Start non vive un buon momento a livello nazionale e si teme il suo fallimento prima che possa concludersi il passaggio alla nuova gestione con la perdita della clausola sociale e territoriale. Circostanza già fatta notare all'amministratore delegato di poste italiane in visita all'Aquila. A questo si aggiunge anche l'avvertenza di Comdata che gestisce la commessa di IMSS dal 2 agosto. I sindacati chiedono la difesa del perimetro occupazionale e l'uniformità dei contratti fra tutti i lavoratori che pur seguendo la stessa attività hanno condizioni contrattuali differenti. Le vertenze all'Aquila sono due, una che riguarda la commessa IMSS e un'altra che riguarda la commessa Acea. Acea è ieri, lunedì, è stato firmato l'accordo con la nuova azienda, quindi bisogna applicare la clausola sociale, la legge 11-2006 e interessa 106-107 lavoratori. Marilena Scimia, che cosa chiederete a Comdata? A Comdata sicuramente è quello che gli abbiamo chiesto dall'inizio e quindi di equiparare i contratti dei lavoratori perché sapete che almeno per quanto riguarda il consorzio lavorabile noi abbiamo lavoratori che gestiscono lo stesso lavoro e quindi a commessa IMSS con due contratti diversi, abbiamo cooperative sociali e telecomunicazioni. Riferimento proprio alla dignità che diceva lei, non possiamo più sopportare il fatto che i lavoratori lavorano sullo stesso stabile, lavorano sullo stesso commessa, stessa tipologia di lavoro e abbiano contratti diversi. Riferimento proprio alla dignità che diceva lei, non possiamo più sopportare il fatto che i lavoratori